Hai mai pensato a quanto gli ormoni influenzino ogni aspetto della tua vita quotidiana? Probabilmente sai già che gli ormoni sono sostanze chimiche fondamentali che regolano e influenzano quasi ogni aspetto del tuo corpo. In questo video però scoprirai molto di più. Vedremo come nelle donne questi potenti messaggeri biologici interagiscono giocando un ruolo particolarmente significativo. Essi determinano ogni fase della tua vita e influenzano il tuo benessere fisico, mentale ed emotivo. Vedremo anche cosa puoi fare per mantenerli in un equilibrio ottimale. Esploreremo come alcuni ormoni principali influenzano le reazioni biochimiche, il loro ruolo cruciale nel metabolismo, nella distribuzione del tuo grasso corporeo e come influenzano positivamente o negativamente la perdita di peso e l'efficacia di ridurre significativamente il grasso addominale e viscerale. Isabella, membro del mio team, spiegherà ora i vari ormoni, le loro caratteristiche, i loro effetti sul corpo e sulla mente e quanto le loro azioni influenzano le tue giornate, il tuo sonno, il tuo amore quotidiano e come determinano l'aumento o la riduzione di peso in base al loro stato di equilibrio o squilibrio. Estrogeni e progesterone Gli estrogeni e il progesterone sono due dei principali ormoni sessuali femminili. Il loro equilibrio ciclico regola il ciclo mestruale e influisce direttamente sull'umore e sulla salute fisica. Durante la pubertà, innescano i cambiamenti che portano alla maturità sessuale. Durante la gravidanza, supportano lo sviluppo del feto e durante la menopausa, il loro declino provoca sintomi come vampate di calore e cambiamenti dell'umore. Nella post-menopausa poi, questi sintomi possono persistere, aumentare e interagire con altri fattori causativi. Infine, l'interazione tra gli estrogeni e il progesterone è coinvolta anche nella riduzione o mancata riduzione del grasso addominale, nei fianchi, nelle cosce e nel sedere. Video correlati Come fare a ridurre il grasso addominale nella pancia e nei fianchi, parte 2 Come fare a ridurre il grasso addominale nella pancia e nei fianchi, parte 3 Leptina, grelina e dopamina La leptina, prodotta principalmente dal tessuto adiposo, è l'ormone della sazietà. Agisce sull'ipotalamo inibendo l'appetito e aumentando il dispendio energetico. Livelli elevati di leptina riducono la fame, mentre livelli bassi la aumentano. Nelle persone obese, può svilupparsi resistenza alla leptina che causa un aumento del desiderio di mangiare di più. La grelina, conosciuta come l'ormone della fame, è prodotta principalmente dallo stomaco e aumenta l'appetito prima dei pasti. Alti livelli di grelina stimolano l'assunzione di cibo. La dopamina, è spesso chiamata, l'ormone del piacere. La dopamina è coinvolta nel sistema di ricompensa del cervello. Mangiare cibi altamente trasformati può stimolare il rilascio di dopamina, causando una sensazione di piacere e un desiderio di consumare ancora più cibi lavorati pieni di zuccheri, zuccheri aggiunti e grassi saturi non salutari. Il cosiddetto, cibo di conforto. Video correlato È in arrivo un video sull'interazione dopamina, leptina e grelina, iscrivendoti e attivando la campanellina sarai avvisata quando sarà disponibile sul canale. Insulina e cortisolo L'insulina, prodotta dal pancreas, regola i livelli di zucchero nel sangue. Un eccesso di insulina può portare a resistenza insulinica e aumento del grasso corporeo. Il cortisolo, prodotto dalle ghiandole surrenali in risposta allo stress, regola i livelli di zucchero nel sangue e il metabolismo dei grassi e delle proteine. Alti livelli di cortisolo, possono causare resistenza insulinica, disturbi del sonno ed ritenzione del grasso corporeo. Video correlato Come fare a ridurre il grasso addominale nella pancia e nei fianchi Parte 3 Interazione insulina-leptina L'interazione insulina-leptina può causare una combinazione di insulinoresistenza e resistenza alla leptina. Questa situazione a sua volta, può innescare un ciclo vizioso per cui il corpo continua a sentirsi affamato e ad accumulare grasso. Ormoni e sonno Melatonina e serotonina La melatonina, conosciuta come l'ormone del sonno, regola il ciclo sonnoveglia, favorendo un sonno ristoratore. La serotonina, regola l'umore, l'appetito e il sonno. È convertita in melatonina durante la notte, aiutando a mantenere un sonno sano e contribuendo al benessere emotivo. Diete drastiche possono sbilanciare il loro naturale processo e interazione e la relazione che entrambi hanno con altri ormoni. Video correlato nel canale Come calmare la mente Cosa può contribuire al malumore, all'ansietà e depressione Mantenimento dell'equilibrio ormonale Stile di vita e alimentazione Un'alimentazione equilibrata, può aiutare a mantenere livelli ormonali stabili L'esercizio fisico regolare e le tecniche di gestione dello stress sono essenziali per ridurre i livelli di cortisolo e migliorare il benessere generale. Evitare l'uso eccessivo di caffeina e alcol, che incidono sul cortisolo, dormire adeguatamente e mantenere un peso sano sono fondamentali per supportare un equilibrio ormonale ottimale. Video correlati nel canale Come fare a ridurre il grasso addominale nella pancia e nei fianchi Parte 1 E come fare a ridurre il grasso addominale nella pancia e nei fianchi Parte 3 Controlli medici regolari Monitorare i livelli ormonali attraverso esami del sangue e consulti medici regolari può aiutare a identificare squilibri prima che diventino problemi più difficili da gestire. La collaborazione con un endocrinologo o un ginecologo può fornire un supporto personalizzato per gestire la salute ormonale. Sezione speciale Ormoni e tumori Squilibri ormonali e possibili cause tumorali Gli estrogeni sono ormoni fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento dei caratteri sessuali femminili e per il ciclo riproduttivo. Tuttavia, livelli elevati di estrogeni nel corpo possono essere associati a un aumento del rischio di sviluppare il tumore al seno. Questo legame è dovuto principalmente a diversi fattori. Livelli elevati di estrogeni e rischio di tumore al seno Stimolazione della proliferazione cellulare Gli estrogeni stimolano la crescita e la divisione delle cellule della ghiandola mammaria. Un'eccessiva stimolazione può portare a un incremento della probabilità di mutazioni genetiche durante la divisione cellulare, aumentando il rischio di trasformazione maligna. Effetto sul microambiente mammario Gli estrogeni influenzano anche il microambiente del tessuto mammario, favorendo condizioni che possono supportare la crescita e la sopravvivenza delle cellule tumorali. Interazioni con i recettori degli estrogeni Le cellule del tumore al seno possono avere recettori per gli estrogeni, ER positivi, che, quando legati agli estrogeni, promuovono la crescita tumorale. Progesterone e rischio di tumore alle ovaie Il progesterone può ridurre il rischio di cancro alle ovaie bilanciando l'azione degli estrogeni. Ecco alcune fonti autorevoli italiane dove puoi approfondire di più la tua ricerca personale. Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la Fondazione Umberto Veronesi e l'Istituto Europeo di Oncologia Importanza di ridurre il grasso addominale e viscerale Il grasso viscerale avvolge gli organi interni e può influenzare negativamente la salute ormonale, sbilanciandola. Alti livelli di grasso viscerale sono associati a un aumento del cortisolo, resistenza insulinica e alterazioni nei livelli di estrogeni, testosterone, leptina e grelina. Capire quindi come gli ormoni influenzano il corpo è fondamentale. Adottare uno stile di vita sano e consultare regolarmente consulenti specialisti è essenziale. Non sottovalutare l'importanza di queste informazioni. Seguire questi consigli può fare la differenza tra una vita di stress e una vita di benessere. Agisci ora, guarda i video che sto per indicarti, prendi il controllo del tuo equilibrio ormonale, così da migliorare la tua salute fisica, mentale ed emotiva. Investi seriamente nel tuo benessere. Questo video ti spiega da dove iniziare. Puoi però guardare prima quest'altro video che ti spiega i sette errori principali da evitare per perdere peso e grasso addominale e viscerale. E poi torna su questo e inizia da qui.